Un ambulatorio solidale dedicato a chi è fragile o in stato di vulnerabilità psico-socio-sanitaria nasce a Torre Maggiore, nel Foggiano. L'Officina della Salute è la terza in Poglia. Noi siamo pronti ad accogliere tutti i pazienti che abbiano delle caratteristiche più specifiche, cioè la fragilità innanzitutto e che siano in una fascia disagiata. Questo perché non è che ci sostituiamo ad altre strutture pubbliche, ma andiamo a compensare, a completare quelle che possono essere situazioni che non vengono prese in considerazione. Il nostro sportello, il nostro ambulatorio nasce come consulenza, poi c'è l'assistenza, anche diagnostica di primo livello. L'ambulatorio offrirà dal 20 marzo servizio medico di primo livello. Ed effettuare dei check-up personalizzati su donne, uomini, bambini, quindi soggetti che possono essere italiani e anche non italiani, con l'obiettivo di verificare il loro stato di salute e possibilmente di migliorare questa situazione di salute stessa. Intervenire per chi è debole vuol dire fare inclusione sul campo. Sono orgoglioso di ciò perché, per due ordini di motivi, il primo è perché in Puglia questo è il terzo punto. Ne abbiamo uno a Lecce, uno a Bari e il terzo a Torre Maggiure. Quindi questa cosa mi riempie di gioia e d'orgoglio, oltre alla valenza sociale del progetto. E il secondo ordine di motivo è questo punto che noi avevamo previsto cinque anni fa nel programma elettorale. In cinque anni siamo riusciti a realizzarlo. Il progetto nazionale di Croce Rossa offre un'ampia rete di servizi integrati. Per aumentare quelle consulenze specialistiche che attualmente mancano. Quindi è un invito anche a tutti i medici di buona volontà di chiamarci e di far parte di questa bella squadra.